Tu mangiare, perché stai lonti? Lui è il popolese, sto qui e mi è nata per sfidare la strada e tu cerchetti, il più del parolo già. Stradio 105, potenza è sosteniale e ti raggiunge ovunque. Staxi è un po' più semplice ascoltare i programmi più attività. Stradio 105, potenza è sostenibile.